Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le previsioni meteo di TV6. Nel corso di questo martedì 26 aprile avremo ancora l'Italia divisa in due al nord. E' parte del centro l'insistenza delle correnti atlantiche che porteranno piogge temporali al sud. Clima nettamente più mite. In Abruzzo si prospetta una giornata complessivamente stabile. Difatti avremo cieli sereni per quasi tutta la giornata. Qualche addensamento in arrivo negli aree interne, in Apennino, sull'Aquilano settentrionale in particolare. Ma saranno nubi medio-alte che non porteranno particolari fenomeni. Al più qualche breve piovasco pomeridiano, a ridosso dei rilievi altrove dominerà il sole. Le temperature stazionarie massime tra i 16 e i 20 gradi, i minimetri a 7 e 13 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni. Realizziamo i tuoi sogni.